Musica Buongiorno a tutti, bentrovati e benvenuti al primo lunedì in diretta da Palazzo Lombardia. L'ospite fisso di questo appuntamento settimanale è il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti, molto bene. Molto bene, andiamo bene intanto, grazie. Bene, le vacanze sono finite, si riprende, quindi bene. Vabbè, poi oggi è il primo di settembre, adesso spiegheremo anche quale novità per i cittadini lombardi il primo di settembre. Però intanto grazie per aver scelto Tele Lombardia. Grazie a voi, davvero, questo è un vero servizio pubblico, complimenti, vi ringrazio davvero a nome della Regione perché è una trasmissione utile per far conoscere quello che facciamo e per dare risposte ai cittadini. Mi auguro nel modo più completo e soddisfacente possibile. Mi ha tolto le parole di bocca perché stavo dicendo che questa è davvero una grossa opportunità per i cittadini lombardi di, insomma, sfruttate questi 40 minuti in compagnia del presidente perché avete modo di dire la vostra, insomma, vostre riflessioni, i vostri spunti e le vostre domande e rivolgerle direttamente al presidente. Non voglio dilungarmi, soltanto una cosa, questa è, permettetemi, è più unica che rara, il fatto di trovare un presidente di Regione che possa confrontarsi direttamente con voi perché adesso molto spesso la politica è distante, invece qua abbiamo l'esempio vivente di un presidente di Regione che invece qua si confronta, non ha paura, tra l'altro, di potersi mettere anche in gioco, perché no? Voglio dire, davanti a tutti i suoi cittadini è preciso a dire che tutte le telefonate che riceveremo sono senza filtro, per cui l'unica cosa che si raccomanda... Ah, questa non me l'avevate detto. No, l'unica cosa... No, no, ma va benissimo, va benissimo. Io vorrei... Buon senso ed educazione, basta, questa è l'unica cosa che chiedo, poi per il resto è tutto il legito. Poi io sono molto interessato ovviamente alle domande che verranno, cercherò di dare una risposta immediatamente, se non avrò tutte le informazioni rimanderemo alla settimana successiva, perché voglio dare risposte concrete e vere, ma sono anche interessato alle proposte che i cittadini vorranno fare su tutti i temi che riguardano l'attività della Regione e non solo, le infrastrutture, le tasse, il lavoro che manca, i giovani, quali idee avete, quali proposte avete, fatele qui perché a me interessa capire che cosa pensano i cittadini, non solo di quello che facciamo, di quello che fa la Giunta, ma anche di che cosa dovrebbe fare per risolvere i problemi. Quanti giorni è adesso che sta governando? È un anno e mezzo circa, sì, un anno e mezzo. E allora dai, forza, approfittatene, però io prima di dare la linea alle telefonate, intanto qua carta e penna perché così cerchiamo magari di segnarle le domande e tutto quanto, però partirei, ho detto prima, il primo di settembre è una data molto importante per quanto riguarda la nostra Regione, perché parte un'iniziativa, insomma, importante che riguarda la sanità, no? Magari vuole spiegare meglio lei, Presidente. Sì, è un'iniziativa che abbiamo deciso di prendere, è unica Regione a farlo. Da oggi tutte le strutture sanitarie lombarde saranno aperte per le visite e gli esami, non solo negli orari tradizionali, ma anche la sera fino alle 10, sabato mattina e la domenica mattina. Vuol dire che i cittadini lombardi potranno recarsi a fare la visita o anche a fare gli esami su prenotazione fuori orario, no stop. È un'iniziativa che abbiamo già fatto in via sperimentale da maggio fino a fine luglio. In 10 strutture e in queste 10 strutture sono state prenotate oltre 50.000 tra visite ed esami in tre mesi. Vuol dire che questa operazione è molto sentita dai cittadini, questo servizio è molto sentita. Serve ad abbattere le liste d'attesa, per esempio, ed è una cosa che abbiamo visto il successo deciso di estendere a tutte le strutture ospedaliere. Quelle coinvolte sono 232 strutture complessivamente in tutte le province. Sarà data ovviamente sul sito della Regione, ci sono tutti i dettagli. Basta rivolgersi al call center dell'ospedale, per esempio, per prenotare. Oppure il cup 800-638-738, giusto? Esatto, esatto. Per prenotare è uno sforzo importante e anche costoso. E infatti, mi sta rubando tutte le domande. È costoso. Quanto ci costa? Oltre 15 milioni di euro l'anno. Sono soldi ben spesi, però. Abbiamo deciso di investire in questo servizio, ripeto, visite ed esami non stop fuori orario. Da oggi, primo settembre, per tutti i giorni dell'anno e tutti i mesi dell'anno, 15 milioni di euro, che però abbiamo e non dobbiamo ridurre altri servizi. Perché? Perché siamo riusciti in un'operazione molto importante, quella a Roma, dei costi standard. Oh, sti benedetti costi standard, che fine hanno fatto? Perché ogni tanto sembra, non so, un fantasma, sti costi standard. Li abbiamo sbloccato, li abbiamo regolato. Sì, sì, abbiamo combattuto per tanti anni, parlo della Lega, non solo, che cosa sono i costi standard. I costi standard sono un modo di premiare le regioni virtuose, che spendono bene i soldi pubblici, che spendono meno di altre regioni per fare gli stessi servizi, cosa che fino ad oggi non succedeva. Se un esame... Se una siringa, perché l'esempio classico è quello della siringa, tutti i politici che vengono mi dicono, Giorgio, se una siringa, in Lombardia mi costa tot. E in un'altra città, in un'altra regione, costa tre o quattro volte quello che costa in Lombardia, fino a pochi mesi fa veniva rimborsato qui quello che costa, e in Sicilia o in un'altra regione, il doppio, il triplo, il quadruplo. È giusto? No. Perché io spendo meno e sono penalizzato rispetto ad altri? Adesso siamo riusciti, attraverso appunto il meccanismo dei cosiddetti costi standard, a essere premiati. Noi spendiamo bene, la Lombardia spende bene i soldi ed è premiata. Ed è una cosa molto concreta, perché? Perché da subito la prima applicazione dei costi standard ci ha consentito di avere 506 milioni di euro in più per il 2014 e altrettanto per il 2015. Cioè in questo anno, da qui all'anno prossimo, avremo oltre un miliardo di euro per la sanità, solo perché spendiamo bene i nostri soldi. Quindi un successo importante che va nel senso che io avevo sempre auspicato, cioè di aumentare le risorse che rimangono in Regione Lombardia. Però? Avendo questo miliardo di euro abbiamo cominciato subito questi 15 milioni. A spenderli in modo giusto. Esatto, per l'operazione ambulatori aperti. Molto interessante. Allora, io direi però, c'è già la prima telefonata in attesa, anzi, mi sa che è lì in attesa da un po' per parlare con lei. Sentiamo subito chi c'è in linea. Pronto o buongiorno? Pronto. Sono in linea io. Buongiorno. Chi parla? Sono Anna di Milano. Anna bentrovata, prego. Grazie. Un saluto a lei, Giorgia. Grazie. E complimenti a Roberto Maroni. Grazie. Felicissima di poterla seguire in televisione. e grazie per essersi dedicato ai cittadini, insomma, per poter parlare finalmente con lei, con un politico di questo spessore che si dedica ai cittadini. Volevo semplicemente farle i complimenti. Ah, grazie. Sì, vi sto seguendo. Sono felice di poter sentire delle parole sagge e spero che il buon senso, appunto, di Roberto Maroni riesca a far migliorare determinate cose in questa regione. Grazie, Anna. In questa regione. Grazie per la telefonata. Grazie a voi per la trasmissione. Grazie a Roberto Maroni. Ci risentiamo, allora. Grazie. Beh, l'impegno, devo dire, l'impegno è questo. I complimenti fanno sempre piacere, naturalmente. Però devo dire che sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo. Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo messo a disposizione dei Lombardi tante risorse, tante iniziative. Non sto a elencarle tutte, naturalmente. Abbiamo cominciato, la cosa che mi fa molto piacere, a ridurre la pressione fiscale per i Lombardi. Poi magari ne parleremo. Sì, mi piacerebbe. Ed è uno sforzo rilevante che riesco a fare perché è una buona squadra, una grande compattezza nella squadra di governo della regione, nella maggioranza. E poi è quello che lei dice, tu dicevi all'inizio, cioè la capacità di ascoltare i cittadini. Non è da tutti, eh. Tante cose le abbiamo fatte perché ascoltando i cittadini ci vengono date delle idee. La Lombardia è una regione vastissima, è una delle più importanti regioni d'Europa. E arrivare ovunque non è facile. Il sesto paese europeo tra i 28 come popolazione e ha la montagna, ha i laghi, ha la pianura, ha la grande metropoli, ha i piccoli paesi. In Lombardia c'è il paese più piccolo d'Italia, 18 abitanti in Valtellina. E quindi c'è la necessità di intervenire in modo differenziato. Non è che si fa le cose, va bene per Milano e va bene per Morterone, provincia di Lecco, che ha 39 abitanti. No, bisogna differenziare. E quindi la capacità di ascoltare, anche le critiche, ma le proposte, i suggerimenti, è per me fondamentale. E allora ne sentiamo un'altra. Dai, pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Giorgia. Come si chiama? Io sono Mauro, telefono da sondio. Ma pensa te, proprio di Valtellina stavamo parlando, Mauro. Sì, sì. Buongiorno a lei, buongiorno al presidente Maroni. Io avrei un problema da porre al presidente. Sì. Siccome io sono un pensionato, però mi piace lavorare anche in agricoltura, e abbiamo un problema in Valtellina, che il presidente penso che sappia, dei cervi e dei cinghiali che fanno dei danni enormi in agricoltura. E io quest'anno, siccome sono iscritto alla regione Lombardia, mi arriva il libro dell'agricoltura. Sì, sì. A gennaio, lo leggo, e c'era scritto che per i danni degli ungolati, dei cinghiali, bisognava rivolgersi in provincia che l'assessore Fava ha prolungato fino al 2015 per avere delle reti e delle protezioni per questi esmaghi. Siccome sono andato in provincia, mi hanno detto così che loro non sapevano niente. Allora io ho detto, ma non so, mi hanno detto, vado all'assessore, quello che comanda in provincia lì, quello della caccia, mi hanno detto, vado in regione, e in regione mi hanno detto che non sanno niente. Ma c'è l'articolo di legge, che ho qua sotto mano, numero 157-92, e regionale 26-93 del 31 del 2008, prolungato fino al 2015, che ha fatto l'assessore Fava. In provincia hanno detto così, che siccome la regione Lombardia dà meno soldi, e non hanno i soldi per queste cose. Allora Mauro, io la ringrazio per la domanda. Si fermi qui, così diamo modo anche, arriviamo al punto, così poi diamo modo anche a più gente di poter intervenire. Il problema l'abbiamo inquadrato, ok. Adesso poi, io nel merito, bisognerebbe magari sentire anche l'assessore Fava, che è una cosa molto importante. No, ma lo so, le risorse ci sono, sono state stanziate, l'assessore Fava, su questa questione, su tante altre, siamo molto attenti all'agricoltura, perché la Lombardia è la prima regione agricola d'Italia, è la prima regione agricola d'Italia, abbiamo fatto tante iniziative per sostenere le nostre imprese agricole, poi parlerò anche dei cinghiali. Per esempio abbiamo anticipato la PAC, che cos'è la PAC? Politica, politica, agricola, comunitaria. Brava, che dà i soldi alle imprese agricole, ma la burocrazia europea è sempre molto lenta nel dare questi soldi e le nostre imprese non possono aspettare. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Di anticipare noi come regione i soldi. O come avete detto per la cassa integrazione. Esatto, per la cassa integrazione in deroga, fino al 70% dei soldi che vanno alle imprese agricole da Bruxelles, in modo tale che le nostre imprese abbiano subito il cash, i soldi, e noi come regione ci facciamo carico dei ritardi europei. È un'altra iniziativa importante che facciamo, perché abbiamo la capacità di farlo. Come per la cassa integrazione in deroga, no? Che cos'è la cassa integrazione in deroga? Lo so bene perché l'ho inventata io quando ero ministro del welfare. È la cassa integrazione per le piccole imprese artigiane, commerciali, industriali, sotto i 15 dipendenti che non hanno la cassa integrazione ordinaria. Ed era un danno grave per i lavoratori, no? Delle piccole imprese. Allora io da ministro l'avevo inventata. e c'è una cassa che viene pagata a questi lavoratori a carico dello Stato come sorta di risarcimento per i tanti anni in cui non hanno avuto questo beneficio. E anche qui però viene decisa la cassa integrazione ma prima che venga erogata passano mesi, mesi, mesi. Se un lavoratore perde il posto di lavoro non è che può aspettare mesi, mesi, mesi. Ha bisogno subito. E noi come regione Lombardia abbiamo deciso di anticipare a questi lavoratori e a queste imprese la cassa integrazione in deroga. Stessa cosa per la PAC. Qui abbiamo messo le risorse l'assessore Fava ha prorogato questa misura fino a 2015. È un problema di comunicazione mi pare di capire ma dipende anche dal fatto che a Roma hanno fatto un pasticcio sulle province. Le province non ci sono più. Ma è anche elezione però. Non ci sono più. Le province non ci sono più ma ci sono ancora. Sono state abolite ma rimangono con il commissario. Questo crea questi disservizi questi problemi perché la provincia c'è ma non c'è. Anche per noi è un problema trovare i riferimenti sul territorio. Con cui parlare di fatto. Però è solo un problema di comunicazione di informazioni perché la decisione è stata presa e l'assessore Fava l'ha prorogato fino a 2015. Io sentirei un'altra telefonata prima della pubblicità poi mi fanno segni così di tipo no però adesso dai l'ultima che l'hai in attesa da un po'. Pronto? Chi parla? Buongiorno sono Anna di Milano. Buongiorno Anna tutto bene? Volevo ringraziare la regione Lombardia per il servizio di telesoccorso perché mio marito purtroppo è un cardiopatico e col telesoccorso abbiamo un controllo settimanale perfetto dove io trasmetto il cardiogramma tramite telefono. è un servizio ottimo anche in vacanza io ho un numero particolare che tutte le settimane mi metto in contatto con un'inferriera di riferimento di San Luca quindi ringrazio la regione Lombardia del servizio di prevenzione e di attenzione al paziente. Grazie signora Anna buona giornata. Questo è uno dei tanti servizi che facciamo che è il soccorso? Ovviamente l'aiuto il soccorso a distanza se uno ha bisogno di sentire il cuore di farsi visitare si può fare anche senza recarsi fisicamente per alcuni servizi come questo cardiologico. È ovvio che sono servizi diffusi su un territorio vastissimo quindi mi fa piacere che la signora Anna abbia confermato che funziona invito tutti gli ascoltatori ovviamente che usufruiscono di questo o di altri servizi anche a segnalare eventuali disservizi perché se un servizio funziona bene dappertutto però magari in quell'ospedale in quella zona in quell'area c'è un problema tecnico e prima che noi veniamo a conoscenza di questo possono passare giorni se c'è invece la segnalazione immediata e potete farla anche a Terra Lombardia magari durante la settimana la butto lì ecco se c'è la possibilità di segnalare il lunedì quando c'è la trasmissione io sono in grado di dare le risposte alle domande che arrivano anche durante la settimana e allora scrivetemi a georgia.colombo chiocciolatelelombardia.it che poi il lunedì molto bene le leggeremo in trasmissione avrete delle risposte o non mancate perché prima il Presidente ha parlato di pressione fiscale cari Lombardi e di pressione fiscale continueremo ne parleremo anzi dobbiamo ancora iniziare a parlarne parleremo di lavoro visto che abbiamo tirato fuori anche questa storia della cassa integrazione in deroga e ordinaria insomma di tutto di più gli argomenti insomma ce li state dando voi tra un minuto torniamo grazie eccoci qua amici ben ritrovati con orario continuato vi ricordo l'appuntamento fisso tutti lunedì a partire dalle 13 in compagnia del Presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni qui a rispondere alle vostre domande anche al cinghiale della valtellina esatto allora sentiamo subito una telefonata pronto chi parla pronto buongiorno ah buongiorno Giorgia e buongiorno innanzitutto al Presidente Maroni buongiorno di cui sono veramente orgoglioso di poter parlare insieme io al Presidente faccio una domanda molto telegrafica però è una domanda che penso che riguardi la stragrande maggioranza dei Lombardi visti i sondaggi che fanno i quotidiani tipo il giorno così sul discorso della Regione a Statuto Speciale nel suo programma elettorale io sono stato un suo elettore era tra i tanti temi era il discorso del federalismo regionale praticamente io vorrei sapere questo referendum che vuole lei proporre praticamente quando si farà e se si farà visto che nei paesi europei vediamo la Scozia a settembre e la Catalogna a novembre faranno un uguale referendum se questo referendum è legale ci concederà lo Statuto Speciale visto che dai sondaggi sembra che più del 90% dei Lombardi siano favorevoli e attendo una risposta in modo da lasciare lo spazio anche ai telespettatori e un saluto a Simpatica Giorgia buona trasmissione grazie è mio parente però la domanda ci stava e sa quante volte Presidente Torre ritorna nelle trasmissioni di Tele Lombardia ma questa Lombardia a Statuto Speciale di cui in effetti è vero diceva il telespettatore era nel suo programma elettorale e adesso c'è stato un avvio di un qualcosa o mi sbaglio che cos'è la regione a Statuto Speciale ci sono varie forme di autonomia molto spinta quella che vuole il Veneto è addirittura l'indipendenza il Veneto regione indipendente come la Scozia in Scozia il 18 settembre si farà un referendum dove gli scozzesi saranno chiamati a rispondere alla domanda vuoi tu una Scozia indipendente come un nuovo Stato europeo questa è la sensibilità che c'è in Scozia che c'è in Veneto in Scozia il referendum si farà il 18 settembre sarà una data da segnare sul calendario perché il popolo scozzese sarà chiamato a rispondere a decidere del proprio futuro così vogliono fare in Veneto in Veneto hanno già approvato una legge per indire il referendum in Veneto sull'indipendenza del Veneto è una buona notizia perché io sono per il popolo sovrano il popolo che decide il referendum è la forma più diretta di democrazia sentire il popolo che per la Costituzione italiana ha appunto la sovranità è infatti tant'è vero che purtroppo devo dire il governo italiano inopinatamente ha bocciato questa legge del Veneto prevista dallo Statuto peraltro e ha la mandata alla Corte Costituzionale perché decida la Corte se è costituzionale o no a me pare veramente una follia non consentire al popolo di esprimersi peraltro è un referendum consultivo non come quello scozzese è solo consultivo noi lo vogliamo fare lo vogliamo fare in Lombardia per trasformare la Lombardia in una regione a Statuto Speciale è già stata depositata la proposta in Consiglio Regionale sarà discussa nelle prossime settimane lo Statuto della Regione Lombardia dice che per approvare questa proposta serve una maggioranza qualificata che va oltre la mia maggioranza di governo quindi compito mio compito della nostra maggioranza sarà di convincere anche parte dell'opposizione a votare a favore e io penso che nessuno possa votare contro primo perché è un referendum consultivo chiedere al popolo sovrano è sempre un esercizio di democrazia secondo perché nel merito la Lombardia regione a Statuto Speciale non è una roba della Lega così la bandierina quanto porterebbe nelle casse dei Lombardi esattamente porterebbe diciamo modello Sicilia Statuto della Sicilia che dice che in Sicilia rimane il 100% il 100% delle tasse pagate dai siciliani il 100% qui da noi rimane meno del 70% poi le usano un po' male in Sicilia infatti noi le useremmo molto bene ma avere lo Statuto Speciale vuol dire tenerci qui tutti i nostri soldi soldi pagati dalle tasse dei Lombardi vuol dire risolvere tutti i nostri problemi vuol dire aiutare i giovani aiutare le imprese aiutare le famiglie cancellare il ticket sulla sanità cancellare il bollo auto tutte cose che voglio fare naturalmente e la regione a Statuto Speciale è la via maestra io non voglio aiuti da Roma non voglio soldi di altri voglio potermi tenere voglio potermi tenere i soldi dei Lombardi va bene andiamo a sentire un'altra telefonata e questo è il significato della regione a Statuto Speciale e io spero davvero che prevalga il buonsenso e non l'ideologia perché se il PD mi dice di no perché non si può fare o perché è sbagliato beh spiega ai cittadini perché i nostri soldi devono continuare ad andare a Roma invece che rimanere qua va bene pronto chi parla pronto Giorgia mi sente buongiorno buongiorno signora con chi parliamo sono di Cassano Primo le devo dare il mio nome sono Marilena solo il nome Marilena sono la mamma di un adolescente di 19 anni e un altro adolescente di 13 anni io telefono perché innanzitutto volevo farvi le congratulazioni a lei Giorgia e al presidente della regione perché è davvero una bella trasmissione è interessante potervi telefonare e interagire con voi in questa trasmissione televisiva grazie poi volevo portare un po' questa situazione che abbiamo nel nostro paese che è dichiarata città di Cassano Primo con 11.800 abitanti e dove purtroppo mancano le strutture sportive per i nostri adolescenti quest'anno abbiamo una situazione economica a livello di bilancio comunale che è piuttosto precario mi rendo conto che andare a chiedere le strutture per gli adolescenti è una situazione un po' difficile però io volevo chiedere se a livello regionale ci sono dei finanziamenti che si possono utilizzare per investire su queste strutture sportive tipo campetti di cazzo a sei campetti per pallavolo per basket grazie signora grazie mille mi scusi se la taglio così brutalmente ma è sempre per dare un po' di grazie la domanda è molto interessante anche perché poi no devo dire non è per niente banale perché poi crescono i campioni parliamoci chiaro dai campetti di calcio che nascono i campioni come chi è che abbiamo a Torres esatto ieri è stata una buona giornata perché il Milan ha vinto e da tifoso milanista devo dire che è stata una bella serata ieri sera però di là di questo il calcio certo va bene il calcio delle grandi squadre va bene ma io sono interessato a tutti gli sport non a caso ho nominato assessore allo sport e alle politiche giovanili che oltre a essere un bel uomo è un campione olimpico ha vinto due olimpiadi nella canoa che non è propriamente uno sport che fa diventare ricchi e famosi ma rappresenta proprio il valore vero dello sport che io vinco perché sono più forte perché mi preparo meglio perché perché ci metto l'anima questi sono i valori dello sport che io voglio sostenere noi abbiamo investito molto molte risorse proprio nella realizzazione di strutture sportive nonostante i tagli che ci sono venuti dal governo abbiamo messo a disposizione decine di milioni di euro in questo anno e mezzo per vari programmi per vari progetti per vari bandi che ovviamente sono rivolti ai comuni sono strutture pubbliche i comuni interessati possono rivolgersi alla regione Lombardia e noi abbiamo messo i finanziamenti o possono rivolgersi direttamente all'assessore Antonio Rossi al suo staff lui ha tutte le informazioni ma è un settore che abbiamo seguito molto e abbiamo investito decine di milioni di euro proprio per la realizzazione in cofinanziamento con i comuni e magari anche con i privati di strutture sportive non solo campi di calcio ma anche campi di atletica non male anche perché poi tutti i nostri telespettatori insomma magari più informati se lo ricordano è il patto di stabilità che strangola i comuni e quindi laddove magari un comune non riesce ad arrivare ecco lì che la regione se riesce e in questo caso mi pare è ben riuscito l'intervento arriva la super regione Lombardia allora questo è vero il patto di stabilità i nostri comuni voi pensate che i comuni Lombardi hanno nelle loro casse oltre 5 miliardi di euro che non possono spendere perché il patto di stupidità e così l'ha definito Renzi quando era sindaco adesso che è il governo si è dimenticato non possono spendere pensate che cosa potremmo realizzare con questi soldi allora noi la regione Lombardia la regione Lombardia è intervenuta sulla prima casa è intervenuta in aiuto dei comuni per dare soldi e aiutarli a fare quello che potrebbero fare con i soldi che hanno in cassa ma che purtroppo questa legge assurda che bisogna eliminare non gli consente di fare bene allora carta e penna perché dopo la pubblicità ovviamente vi dicono i centralini che sono impazziti perché tutti vogliono parlare con lei ma vi ricordo che tutti i lunedì se oggi non siete riusciti a prendere la linea adesso parte ancora l'ultima parte di trasmissione ma ogni lunedì sarà qui a vostra disposizione il presidente dopo dobbiamo ricapitolare un attimino sulla questione ambulatori e poi vorrei parlare di tasse di tasse dei Lombardi quello che abbiamo fatto quello che è stato fatto se è stato fatto qualcosa dopo la pubblicità vediamo eccoci qua ben ritrovati amici in compagnia del presidente di regione Lombardia Roberto Maroni arrivo subito alle telefonate prima però in 30 secondi presidente ambulatori aperti di sera e nei weekend a partire da oggi sono coinvolte diceva prima 232 strutture ospedaliere in tutta la regione sì tutte le strutture pubbliche e alcune strutture private per adesso 232 25 Bergamo 17 provincia di Brescia 10 Como 6 Cremona 10 Lecco 4 Lodi 7 Mantua Milano Città 35 Milano Provincia 40 Monza Brianza 30 Pavia 23 Sondrio 2 Varese 20 Valcamonica 3 in totale 232 strutture e devo dire che come ho detto all'inizio questa decisione è derivata dalla sperimentazione che abbiamo fatto dal 17 maggio al 31 luglio quindi maggio metà maggio giugno luglio due mesi e mezzo in due mesi e mezzo senza tanta pubblicità perché i giornali non ne hanno parlato naturalmente Tele Lombardia sì ma i giornali no sono arrivate ben 54.168 prenotazioni di esami solo in 12 strutture allora ho capito che è una cosa che serve ai cittadini l'abbiamo ampliata da oggi 232 da 12 a 232 strutture quindi quando chiamate chiedete per le liste d'attesa ai tempi anche delle erogazioni delle prestazioni sanitarie adesso avete insomma già la risposta sentiamo io spero io penso che entro la fine dell'anno avremo un grossissimo abbattimento delle liste d'attesa quindi prima di Natale faremo il punto della situazione e spero di poter dire che non dico le abbiamo azzerate ma quasi pronto chi parla pronto sono io buongiorno buongiorno Giorgia sono Gianni un allevatore un po' di un'allevatoria del latte qua di Crema della provincia di Cremona buongiorno Gianni buongiorno allora prego vuol parlare ha detto saluto Maroni però voleva dirle qualcosa sì volevo dire qua per il premio comunitario della PAC che noi siamo rimasti esclusi e c'è qui la delibera che dalla campagna 2014 con il decreto numero 7095 del 24-7 è stata disposta la sua esclusione dal finanziamento regionale per quella storia delle multe del latte quando c'è un'indagine dei carabinieri che dice che il latte non è stato sprafonato e che la PAC si spetta quando c'era dei capitani diceva finché non firmo Formigoni io la PAC non ve la posso pagare adesso c'è Fava con Maroni e siamo 5 anni che non prendo la PAC e gli si chiede un atto di coraggio Maroni di avere il coraggio di firmare sto decreto e farlo grazie mille per la domanda allora la questione è quella delle quote latte conosciamo bene la questione non si può fare mi spiace ma non si può fare perché non possiamo dare i soldi europei anticipandoli non sono soldi nostri sono soldi che noi anticipiamo dell'Unione Europea se l'Unione Europea la Commissione Europea ci dice non potete darli c'è un contenzioso in atto lo conosciamo bene quello delle quote latte ma io non posso dare soldi non sono soldi miei della regione noi anticipiamo se io dovessi dare questi soldi poi la Commissione Europea me li chiede indietro a me e poi arriva la Corte dei Conti che mi dice perché gli hai dati danno il raviale quindi io sono vincolato alle norme europee e alle norme del governo italiano io anticipo la PAC è una cosa che faccio ma che non dovrei fare non è mio obbligo farlo lo faccio per aiutare le imprese però devo rispettare le regole europee ok quindi abbiamo dato risposta anche all'amico sulle quote latte allora prima abbiamo parlato di pressione fiscale di riduzione della pressione fiscale in regione Lombardia quanti minuti mancano così per regolarmi vedo tante altre telefonate in attesa abbiamo quattro minuti ancora giusto per capire allora riduzione fiscale c'è stata non c'è stata in questo anno e mezzo della sua giunta? sì c'è stata abbiamo cominciato è sempre un percorso complicato dal fatto che il governo di Roma continua a tagliare risorse nella sanità abbiamo avuto un miliardo in più come ho detto ma grazie ai costi standard non per gentile concessione del governo tutti gli altri fondi sono continuamente tagliati nonostante questo siccome noi siamo bravi a spendere i soldi pubblici abbiamo cominciato un percorso virtuoso di riduzione delle imposte ai Lombardi in particolare per i ticket sanitari abbiamo cancellato i ticket farmaceutici per 800 mila Lombardi dal primo da maggio di quest'anno 800 mila anziani Lombardi non pagheranno più il ticket in farmacia perché abbiamo voluto dare un aiuto concreto a chi raggiunta una certa età ha bisogno di farmaci avete alzato praticamente l'esenzione abbiamo eliminato la domanda è riuscirete a portarla ad ampliarla sempre di più magari con quel miliardo di cui parlava prima l'obiettivo è ci stiamo lavorando l'obiettivo è che a partire dal 2015 io voglio cancellare i ticket sanitari segnatelo non è solo questione di soldi ci sono delle leggi nazionali che ci impongono di mettere dei ticket ma io voglio negoziare col governo visto che i soldi ce li ho la cancellazione non vedo perché far pagare ai Lombardi un ticket quando non ci servono e servono per pagare i ticket degli altri regioni ok sarà una bella battaglia col governo ma la voglio fare IRAP l'imposta rapina l'imposta più odiosa perché colpisce il lavoro abbiamo cominciato anche qui a ridurla abbiamo cancellato l'IRAP per i giovani un giovane che mette su un'impresa e l'inizio è sempre difficile complicato partire perché devi trovare i soldi che la banca non ti dà devi trovare il posto devi trovare i clienti noi li abbiamo aiutati mettendo 30 milioni per lo start up e cancellando l'IRAP per i giovani che mettono su un'impresa e infine il bollo auto il bollo auto anche questo io non lo voglio più pagare cioè la prossima volta vengo con un cartello non voglio più pagare il bollo auto esattamente anche qui abbiamo cominciato abbiamo entro la fine del mandato voglio completare l'opera abbiamo cominciato cancellando il bollo auto per chi per chi rottama una vecchia auto inquinante ne prende una un euro 5 un euro 6 meno inquinante non pagherà il bollo abbiamo cominciato da lì poi a poco poco vogliamo estenderlo è un problema di risorse se noi avessimo se noi potessimo tenerci i nostri soldi avremmo risolto tutti questi problemi allora manca un minuto la chiusura della trasmissione regione a statuto speciale una battuta proprio 10 secondi primario del centro-destra ieri ha chiuso la Bergenfest la 25esima edizione Maroni se Berlusconi si ricandiderà perderemo sì ho parlato del 2018 ho detto Renzi è uno che fa tante promesse e poche cose concrete però ha fatto una cosa importante ha rinnovato ha fatto un cambio generazionale ha messo quelli della sua età i quarantenni il centro-destra deve fare altrettanto io l'ho fatto con la Lega ho lasciato il posto di segretario a un giovane quarantenne Matteo Salvini bravissimo anche il centro-destra deve fare questo non possiamo arrivare al 2018 quando ci saranno le prossime elezioni con gli stessi che c'erano è un atto di coraggio questo che io sono sicuro Berlusconi che conosco bene che stimo ho affetto per lui sono sicuro che questo atto di coraggio lo farà siamo in chiusura quante notizie che ci ha dato il presidente per tutti coloro che non sono riusciti a mettersi in contatto con noi fa dei problemi come dicono in Brianza torniamo lunedì prossimo sempre con Roberto Maroni alle 13 su Tele Lombardia oppure mandatemi le mail a Giorgia.colombo chiocciolatelenombardia.it le consegnerò direttamente a lui va bene grazie presidente grazie a voi grazie a tutti ciao amici ci troviamo mattina alle 7 ciao anzi stasera con Ravezzani grazie a tutti